Avvocato Bucci, quali sono le sfide dei prossimi anni per il settore assicurativo italiano? Sicuramente si dovranno registrare necessariamente delle aggregazioni, ne abbiamo viste e alcune abbiamo anche eseguite nel campo del private equity, quindi si vedranno degli investimenti interessanti anche da parte dei soggetti esteri in società assicurative nazionali al fine di strutturare dei veri e propri gruppi con degli add-on in modo da riuscire a ottenere una massa critica di premi e di valori assicurativi importanti a livello italiano e possibilmente anche estero. Questo anche perché alcuni private equity firms hanno investito in Italia dopo aver investito in gruppi assicurativi esteri e questo conferma l'interesse a livello assicurativo globale e poi ovviamente anche nel nostro paese dove ci sono significative occasioni. Grazie Avvocato. Grazie a lei per chiederci.